Ciao a tutti! Come coinvolgere un uomo che non si vuole legare? In questo video voglio spiegarti come fare a coinvolgere un uomo che non si vuole legare, un uomo che non vuole avere una relazione sentimentale-affettiva. Come fare? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise mirate alle tue domande. E veniamo al tema. Come legare, come coinvolgere, come far innamorare un uomo che non si vuole legare? Allora, devi tenere presente una cosa fondamentale, che se non si vuole legare è perché tu non sei stata capace di acquisire potenziali di seduzione, di acquisire tensioni, di dargli tensioni emozionali, perché il problema qual è? Il problema è che l'innamoramento, il coinvolgimento è praticamente una cosa legata all'emotività. Se tu vuoi far innamorare un uomo devi dargli emozioni, devi dargli emozioni. E che cos'è l'emozione? L'emozione è la differenza tra l'immagine ideale e l'immagine reale. Cioè tra ciò che vorresti e ciò che hai. Quindi, se io voglio due bicchieri d'acqua e ho due bicchieri d'acqua, provo un'emozione. Se questi due bicchieri d'acqua non posso averli. Se voglio due bicchieri d'acqua e ho due bicchieri d'acqua, non provo nessuna emozione. Quindi, se tu sei disponibile nei suoi confronti eccessivamente, gratifichi tutte le tue esigenze, è evidente, è evidente che non riuscirai mai a far innamorare un uomo. Non riuscirai mai a far sì che lui voglia legarsi. Primo, perché non avrà paura di perderti. Secondo, perché non svilupperai emotività. L'emozione, lo ricordo, è energia. E questa energia scaturisce dalla differenza tra il verso e l'inverso. L'inverso è ciò che abbiamo. Il verso è ciò che vorremmo avere. Quindi, se tu vuoi coinvolgere un uomo, devi fargli vivere delle emozioni. Ad esempio, il rischio di perderti. Ad esempio, il fatto che non soddissi tutte le sue esigenze. Ad esempio, fargli percepire che senza di lui tu sei felice e stai bene. Questa è un'altra cosa... Questa è un'altra cosa molto importante. Questa è un'altra cosa molto importante. Veramente molto importante questa cosa. Se tu riesci a generare questo, beh, automaticamente sarà lui a volersi legare. Sarà lui a voler iniziare con te una relazione. E questo è davvero molto importante perché, ti posso spiegare, il volersi legare nasce dai suoi bisogni più profondi quando temerà di perderti. Quando tu l'avrai stimolato opportunamente e poi ti sarai tirato indietro. Perché bisogna stimolare e tirarsi indietro. Bisogna, come dire, fargli percepire che altri ti desiderano. Questa è un'altra cosa fondamentale. Se lui non percepisce che altri ti desiderano, se lui non percepisce che altre persone vogliono stare con te, non proverà mai quella tensione, quel desiderio di legarti per non perderti. Perché un uomo cerca di, vuole legarsi, convivere, fidanzarsi, soltanto se teme che la donna, che avrà paura di perdere la donna con la quale, con la quale, che gli ha generato tensione ed emozioni. Perché se è tranquillo, non farà mai il primo passo. E più tu cercherai di farglielo fare, meno lo farà. Quindi, se vuoi coinvolgere un uomo che non si vuole legare, se vuoi far innamorare un uomo che non si vuole legare, devi smettere di gratificare eccessivamente la parte logico-razionale. Devi passare a dare degli stimoli. Devi passare a dare degli stimoli. E questi stimoli devono essere analogici, ovviamente. Mai logici. Quindi è il tuo comportamento che può coinvolgere, è il tuo comportamento che può sedurre, è il tuo comportamento che può far innamorare, ma deve essere un comportamento stimolante. Quindi, un'ottima cosa è anche il tir e molla. Un'ottima cosa è anche l'essere, diciamo, per così dire, gratificare in modo casuale, random. Cioè, senza dare dei riferimenti precisi. Questa è un'altra cosa molto importante, perché se tu dai dei riferimenti precisi, lui sa già che tu sei imprevedibile. Tu devi essere imprevedibile. L'imprevedibilità, diciamo, è la sorgente di tutte le emozioni. Quindi, comportati in questo modo e vedrai dei cambiamenti radicali, dei cambiamenti veramente fantastici. E anche uomini che apparentemente non si volevano coinvolgere, non si volevano legare, vedrai che si legheranno e si coinvolgeranno. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, condividi questo video con i tuoi amici e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e se ti abboni potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti!